Ancora ha problemi per gli operatori balneari che hanno iniziato con tante difficoltà la nuova stagione. Dopo i dubbi sulle norme anticontagio poi risolte a pochi giorni dalla ripartenza, ora l'incognita riguarda le spiagge libere. A quanto pare però il comune di Fano avrebbe negato a chi ne aveva fatto richiesta alcuni metri di arenile. L'obiettivo era quello di recuperare gli ombrelloni persi a causa delle distanze imposte per fronteggiare l'emergenza. A intervenire oggi in difesa della categoria è il responsabile di oasi confartigianato Andrea Giuliani. Siamo molto dispiaciuti di questa cosa perché la regione ha permesso ai comuni costieri delle Marche di concedere solo per tre mesi 12 miseri metri lineari di spiaggia libera per permettere ai balneari di recuperare una buona parte degli ombrelloni dei lettini persi per via dell'aumento delle distanze tra le attrazzature e non soltanto di recuperare quindi le attrazzature ma di conseguenza di mantenere i livelli occupazionali. E tutti sanno che in questo momento di grave emergenza sociale quanto sia importante garantire lavoro alle persone e in particolare ai giovani. C'è anche un altro dettaglio che contestare. Sì ma la cosa ridicola è questa che addirittura hanno fatto un abaco nel senso che fino a 60 metri lineari di fronte mare danno tutti i 12 metri lineari di spiaggia libera per questi tre mesi. Da 60 a 100 metri addirittura i 12 metri diventano 6 e quindi il gioco non vale nemmeno più la candela perché devono pagare il canone dei magnali ricognitori, devono pagare l'Atari, devono pagare un geometra per fare il modello di uno, il contratto eccetera e quindi alla fine quei 6 metri lineari cosa ci fanno? Non ci fanno nulla. Poi sopra i 100 metri non è andata per niente quindi già noi abbiamo avuto 7 dignieghi e quindi è inutile che la regione prevede le cose quando poi l'amministrazione comunale in ispregio di quello che decide la regione poi non concede questa importantissima opportunità alle nostre imprese balneari. Giuliani inoltre contesta l'avvio dei lavori sul ponte Metauro lungo la statale adriatica proprio nel giorno in cui inizia la stagione turistico balneare. I tecnici di ANAS infatti questa mattina hanno cominciato a predisporre le operazioni necessarie al monitoraggio sulle condizioni del ponte. L'intervento comporterà inevitabili disagi alla circolazione per due o tre settimane. Verrà istituito un senso unico alternato per i veicoli con il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore a 19 tonnellate. Una cosa veramente vergognosa. Io l'ho saputo ieri andando così su Facebook l'amministrazione comunale ci ha informato di questa cosa. Sono anni che noi diciamo all'ANAS di programmare gli interventi non nella stagione estiva ma negli altri mesi dell'anno mentre invece loro in perteriti ogni anno fanno le manutenzioni nei punti nevralgici e strategici dei grandi assi viari che portano le persone al mare e quindi portano le persone verso le strutture turistico balneari fanesi. Negli anni scorsi nella superstrada quest'anno al ponte Metauro noi per tre settimane avremo il senso unico alternato al ponte Metauro con tutti i disagi poi che ne conseguono. Apriamo oggi la stagione balneare anche se il tempo è quello che è. Abbiamo fatto un sacco di sacrifici siamo pieni di ansie e preoccupazioni che sono causate da questo maledetto virus speravamo di poter partire col piede giusto invece abbiamo una marea di problemi che viene creata da chi è insensibile verso il mondo delle imprese e verso le imprese che rappresentiamo.